Siamo arrivati qui dopo Perham, la città prusciana, la città più piccola italiana, la transizione è veramente... Di sicuro la presenza di Luca è stata importantissima per scegliere di venire qua, perché Luca mi conosce bene, mi allena in nazionale e quindi se Luca mi ha chiamato in questo momento della stagione, siamo alla fine della stagione, mancano poche partite decisive, significa che mi vede come aiuto per questa squadra. Già dopo pochi allenamenti, Meiris si dice smanioso di dare il suo contributo alla causa pesarese. Probabilmente la cosa che posso portare e che voglio portare subito alla squadra di Pesaro è l'energia, energia e aggressività in difesa, a rimbalzo e anche in attacco per poter giocare appunto con più aggressività e più intensità possibile. Meiris arriva dal Parma-Perm, campionato russo dal quale il Lettone è stato costretto ad andarsene da una settimana all'altra in seguito al precipitare degli eventi bellici. Nelle ultime due settimane sono state molto frenetiche, frustranti, preoccupanti, paurose e ho dovuto fare delle scelte rapide e veloci e quindi quando avrò tempo di metabolizzare questo potrò descrivere tutto quello che ho passato nella mia testa, sono passate mille informazioni. Dal basket al calcio, la Vispesoro riparte dalle feriti urticanti dell'E3-0 subito a Gubbio, ospitando sabato alle 17.30 il Grosseto, ultimo in classifica ma tutt'altro che arrendevole come ricordato da mister Banchini. È il Grosseto che deve vincere per forza, noi ci siamo costruiti in una situazione tale per cui siamo sereni, noi per forza non dobbiamo sbagliare per esempio la pressione a 70-80 metri dalla nostra porta, per forza non dobbiamo sbagliare i raddoppi quando giochiamo nella nostra metà campo, per forza non dobbiamo subire nelle fasi emotive decisive come all'inizio della partita, alla fine del primo tempo e in queste situazioni. Noi per forza dobbiamo fare 4-5 tiri in porta nel primo tempo e noi possiamo dire che per forza dobbiamo dentro le fasi di gioco trovare sempre un smarcamento a scarico dopo una giocata verticale, ma chi deve vincere per forza è il Grosseto che viene da 4 sconfitte, ha vinto una partita in casa con Limolese ed è ultima in classifica. Quindi noi abbiamo una condizione ideale per concentrarci sul nostro percorso e fare meglio tutto quello che nell'ultima partita non è andato.